Buona giornata amici da Massimo Foghetti, sono le 7.01 di giovedì 15 settembre 2022 e noi siamo pronti per la rassegna stampa che come sempre condurremo sul Corriere Adriatico e sul resto del Carlino per quanto riguarda le pagine con cronache e con notizie di carattere locale. Passiamo comunque per introdurre la nostra chiacchierata con l'almanacco e vediamo che cosa festeggia oggi la Chiesa Cattolica. Non è un santo normale ma è un santo particolare, ovvero oggi si festeggia una definizione della Madonna di Maria Santissima, la Beata Vergine Maria Addolorata. Ebbene l'immagine della Beata Vergine Maria Addolorata ci riporta alla Madonna sotto la croce che vede martoriare e poi morire suo figlio. Un dolore questo che ogni mamma che vive questo dramma prova intensamente e sa cosa significa. Il nome Addolorata, in omaggio alla Madonna, non è raro anche oggi, specialmente nelle regioni del Sud. E poi l'immagine della Madonna Addolorata è stata un'immagine prediletta per quanto riguarda le opere d'arte. Tanti sono i quadri che raffigurano la Madonna con l'espressione del dolore. Comunque un'immagine su cui meditare davanti alla croce. E veniamo anche alle previsioni del tempo. Il tempo è cambiato rispetto a ieri. Il cielo oggi è nuvoloso. Stamattina qualche cenno di pioggia si è così verificato nel Fanese. Cieli molto nuvolosi al mattino, graduale attenuazione della nuvolosità in giornata, fino a cieli poco nuvolosi in serata. Quindi il tempo migliora. Venti forti al mattino e tesi al pomeriggio. Il vento è caldo. La temperatura si mantiene piuttosto alta. La minima 25 gradi. La massima 31. Quindi ancora siamo in pieno clima estivo. Anche se ormai l'estate si avvia al tramonto. Tra poco il 21 settembre. Il 21 o il 23 settembre sarà autunno. Vediamo ora le notizie. Partiamo subito dal resto del Carlino. E vediamo una denuncia. Una denuncia per quanto riguarda episodi di vandalismo. C'è un parco nel quartiere del Poderino che sembra terra di nessuno. Una terra su cui spaziano frotte di ragazzi che sono intemperanti. Intemperanti è un eufemismo. Forse chi ha denunciato questa situazione evidenzia qualcosa di più. Vediamo il titolo. Baby gang, semi nel terrore a Poderino, minacce, vandalismi e addirittura si parlava di stupri. I residenti sono esasperati da un gruppo di adolescenti che staziona al parco pubblico. E ovviamente evita, fa sì che non ci possano stare gli anziani e soprattutto i bambini. Sono stati anche presentati tre esposti alla polizia locale. Ma sembra che questi esposti siano stati ignorati. Mai un controllo. Lo denuncia Sabrina Lorenzi, che è l'amministratore condominiale di alcuni gruppi familiari che gravitano nelle vicinanze del parco. Il parco si trova tra via Lombardia e via Piemonte al Poderino. Da anni frotte di ragazzi rumorosi si radunano ad ogni ora del giorno e della notte in quel luogo poco illuminato, afferma la donna. E sono interpreti di comportamenti estremamente molesti, che stanno addirittura terrorizzando le persone. Questo non è tollerabile. Grazie al Rotary, ma forse qui c'è un refuso perché si parla in realtà del Lion, è stato il Lion infatti a investire soldi per valorizzare il parco, per curarlo. Però insomma tutto questo rimane inutile se poi questo viene lasciato in balia di frotte di ragazzi che sono violenti e che quindi seminano il terrore. In questo articolo a fondo pagina sulle Carlino si parla anche di violenza sessuale. Un ventenne rischia tre anni di galera. E si rievoca con questo articolo un fatto avvenuto alcuni anni fa al Lido di Fano. Ebbene, due stati fa precisamente, la vittima all'epoca era minorenne. 320 mila euro di risarcimento e tre anni di carcere. Sono queste le richieste messe ieri sul tavolo del giudice fanese accusato, del giudice scusate, nel processo all'allora 19enne fanese accusato di aver violentato una ragazza di 17 anni sulla spiaggia al Lido, vicino ad un noto locale della zona. Il primo agosto di due anni fa. La giovane si è costituita parte civile insieme ai genitori e il loro legale, l'avvocato Raffaele Ricci, ha presentato il conto per le sofferenze subite in merito a questo atto. Alla vittima dovrebbero andare 200 mila euro e 60 mila euro a testa ai genitori. Ecco perché la cifra supera di poco le 300 mila euro. Il PM Silvia Cecchi ha concluso la sua requisitoria chiedendo la condanna a tre anni di reclusione, un calcolo che beneficia comunque di uno sconto di un terzo grazie al rito abbreviato richiesto dal imputato. L'imputato comunque sostiene che fu un rapporto consenziente, insomma il solito dibattito tra accusa e difesa. La ragazza dice che fu stupro e il ragazzo dice che fu un rapporto consenziente. E in questi casi per il giudice non è certo facile dirimere la questione. Ovviamente ci sono poi dei riscontri anche medici che possono così far pendere la bilancia da una parte o dall'altra. Una mamma morì di overdose, il pusher è alla sbarra, si tratta di un extra comunitario. A processo lo spacciatore nigeriano accusato di aver venduto l'eroina a Mari Caccarletti di 34 anni era appena uscita dalla comunità. Si tratta di una dose letale di eroina che stroncò la vita a Mari Caccarletti quando aveva 34 anni nel luglio del 2019. Ed era anche mamma di un bimbo di 7 anni rimasto orfano addirittura del padre pochi anni prima. Il padre era deceduto ugualmente per overdose, essendo un tossicodipendente. Ora per la morte della Carletti a processo a Pesaro c'è il pusher accusato di aver ceduto la dose killer. Si tratta di un nigeriano richiedendo asilo di 34 anni, il suo nome è Philip Okoagi, residente a Iesi con moglie e figli. Si è costituito in questo caso parte civile il tutore del figlio della vittima assistito dall'avvocato Roberto Ginesi. Ma non finiscono qui i fatti di cronaca che i giornali riportano nella giornata di oggi. E vediamo un altro caso che ci propone il resto del Carlino. Spiava i dipendenti con il suo cellulare, finisce a giudizio il caporale 4.0. Si tratta di un titolare di un'azienda metalmeccanica di cartoceto. I lavoratori sarebbero stati sfruttati e sottopagati, non solo. Ma quello che si è presentato all'attenzione degli inquirenti è uno spaccato inquietante. Si tratta di un'indagine della Procura di Pesaro che ieri ha fatto finire a processo il titolare di un'impresa nel settore della metalmeccanica con sede a cartoceto. Il GUP, Francesco Messina, ha accolto le richieste della Procura e lo ha rinviato a giudizio per sfruttamento del lavoro. Che cosa faceva? Controllava i suoi operai direttamente sul cellulare, senza che gli operai ovviamente fossero la conoscenza di questa iniziativa. Era un metodo ingegnoso collegato all'impianto d'allarme che all'ingresso e all'uscita dei dipendenti del capannone avrebbe mandato un SMS al cellulare del titolare della ditta, il quale controllava i movimenti dei suoi dipendenti. Una cosa ovviamente illegale per cui è finito sotto processo. Vediamo ad Urbino, si parla di questa cicloturistica che campeggia ormai da alcuni giorni sui giornali, la Raffaello Gravel, per amare il territorio. Una bella iniziativa che consente a urbinati, ma anche a tanti turisti, di ammirare le belle colline urbinate, di fare una bella passeggiata in bicicletta. L'iniziativa si svolgerà domenica prossima e in questa occasione è atteso un pienone di ciclisti per fare uno dei due percorsi, uno da 65 e l'altro da 110 km, tra strade sterrate, paesaggi e ristoranti. Quindi veramente una bella iniziativa. E poi vediamo qua ad Apecchio, Red Canzian diventa Red Tartufo. Il popolare musicista dei Poo sarà il protagonista della mostra a mercato di Apecchio, con lui canzoni e sapori. L'ospite d'onore sarà l'ospite d'onore della tradizionale Tartufo e birra, la quarantesima mostra a mercato del Tartufo Andar per Osterie, che quest'anno si svolgerà ad Apecchio tra il 30 settembre, il primo e il 2 ottobre prossimo. Ora sfogliamo il giornale sulla pagina pesarese, dove si parla diffusamente del primo giorno di scuola. Insomma, l'iniziativa e il ritorno a scuola di tanti, tanti ragazzi, sono migliaia in tutta la provincia, fa sempre notizia sui giornali, c'è emozioni, ci sono aspettative, ci sono anche tanti problemi, perché poi non tutto è in ordine, in concomitanza con l'inizio della scuola. Ebbene, i ragazzi che frequentano il primo giorno di scuola vengono ancora chiamati remigini. Perché remigini? Perché un tempo il primo giorno di scuola era il primo ottobre San Remigio, oggi non lo è più, si va a scuola il 14 di settembre, ma i bambini sono sempre dei remigini. Scende in campo l'esercito dei remigini e la Liglieri va al mare. 16 grassi sono trasferite, uno dei provvedimenti per quanto riguarda la sistemazione logistica delle scuole. Il trasloco dell'istituto comprensivo da via Gattoni è riuscito pienamente. La vecchia sede sarà ora riqualificata seguendo l'esempio di via La Marbora. E poi vediamo anche un altro articolo, ci sono due pagine che riguardano il primo giorno di scuola sul Carlino, che resta per entrare al Morselli tutto nuovo, quindi non tante sorprese ai ragazzi che frequentano questo nuovo ambiente al Morselli. La folla dei ragazzi nella scuola dove i lavori di rifacimento sono durati ben nove anni, un tripudio di tecnologie di uguale, è rimasta solo la scala, un ambiente completamente nuovo e proiettato al futuro tecnologico per quanto riguarda il Morselli. Un problema, qui si parla invece di sanità. Si parla di sanità perché il problema della fusione tra l'Asur e l'azienda ospedaliera, sappiamo come i programmi sanitari della regione stanno abolendo l'azienda ospedaliera Marche Nord, desta a preoccupazioni per quanto riguarda i sindacati. Vediamo subito il titolo. Fusione tra Asur e azienda ospedaliera, timori tra il personale alto là dei sindacati. A meno di tre mesi dall'avvio del nuovo modello sanitario regionale, ancora ci sono troppe domande senza risposta che attendono una precisazione. E queste precisazioni le sollecitano la CGL, CISL e UIL, che chiedono un incontro urgente all'assessore regionale Salta Martini e ai direttori generali. I lavoratori della sanità dovranno spostarsi da una sede all'altra, punto interrogativo. I loro stipendi cambieranno, altro punto interrogativo, e circa 200 precari dell'una e dell'altra azienda che fine faranno. Sono questi i quesiti che i sindacati rivolgono all'assessore regionale, che al momento non hanno risposta. Ebbene, in vista della creazione della nuova azienda sanitaria territoriale, che ingloberà l'area vasta 1 e l'ospedale, sono tante le domande che turbano i dipendenti. Anche perché di questa epocale trasformazione, dobbiamo dire una trasformazione veramente radicale, in fatto di organizzazione della sanità, ci sarà veramente un cambiamento strutturale per quanto riguarda la posizione dei dipendenti. E qui bisogna fare veramente chiarezza. E invece ormai si sa come vanno le cose nel parco Miralfiore. Il parco è diviso a metà. Da una parte si spaccia, si spaccia la droga, dall'altra parte c'è una certa tranquillità e possono passeggiare i bambini e gli anziani. Parco diviso in due, una metà ai pusher. La denuncia di una mamma, zone pericolose, io non ci vado più. Baiocchi e malandrino di Fratelli d'Italia, rinforzi e certezze della pena per quanto riguarda appunto i malviventi che frequentano questa bellissima oasi che è in periferia a Pesaro, diciamo quasi al centro di Pesaro perché è in area urbana. E poi c'è un altro articolo di cronaca importante. Vi ricordate dell'omicidio bruzzese? Quell'omicidio efferrato che è stato compiuto il giorno di Natale di alcuni anni fa, era il 2018. Girolamo Biaggio bruzzese fu assassinato a colpi di pistola sotto casa a Pesaro. Era la sera di Natale quando i sicari gli scaricarono addosso un intero caricatore di una calibro 9. La procura distrettuale antimafia di Ancona ha imbastito il processo e ha chiesto per i tre finiti in carcere e sono stati individuati appunto gli assassini ha chiesto per i tre finiti in carcere una svolta, una pena veramente importante e quindi si è iniziato l'iter processuale. Si tratta di Francesco Candiloro di 43 anni e di Michelangelo Tripodi di 44 oltre a Rocco Versace di 55 anni ritenuti affiliati alla cosca calabrese Crea di Rizzicomi e questo è stato una prima visaglia della introduzione della grande criminalità nel nostro territorio che per fortuna sembra si sia arrestata. Marche Italia, una filiera unica di governo il programma di Antonio Baldelli candidato di Fratelli d'Italia al plurinominale della Camera non al numero chiuso per la Facoltà di Medicina è una delle proposte del candidato. Abbiamo anche un altro articolo che riguarda Antonio De Poli candidato all'uninominale del Senato per il centrodestra si presenta con le sue priorità infrastrutture, lavoro e bollette ha detto il candidato. Concludiamo l'esame del resto del Carlino con questo articolo di carattere sociale un pasto al giorno l'altruismo torna in piazza sabato e domenica l'iniziativa della comunità di Papa Giovanni XXIII contro la povertà un'offerta per finanziare 7 milioni di pranzi e cene costruiamo una tavola in cui ci sia posto per tutti poi il gadget a chi aiuta è un appello un appello che viene rivolto ai cittadini in favore dei poveri. Insomma dopo il caro bollette dopo tutti i problemi causati dalla guerra russo-ucraina il caro vita di per sé sempre come prodotto dalla pandemia dalla crisi economica si fa ancora più pesante per chi già soffriva di miserie e di povertà quindi l'aiuto è sempre ben accetto per coloro che possono prestare. Ed ora diamo un'occhiata invece al Corriere Adriatico l'apertura è dedicata l'apertura di Fano è dedicata al primo giorno di scuola superiori inizio con protesta stanco delle sedi di risulta. Ci sono problemi non tutti gli studenti che hanno iniziato il nuovo anno scolastico lo hanno fatto nel modo migliore. Ci sono per esempio gli studenti e i docenti del liceo Nolfi Apolloni che ancora aspettano qualche risoluzione positiva in merito all'abbattimento e alla ricostruzione del Carducci. Un progetto che rimane al palo ormai da tre anni. Da tre anni l'inizio dell'anno scolastico è dissociato per quanto riguarda i ragazzi del Nolfi Apolloni. Parte devono frequentare il Battisti altri l'Olivetti altri ancora la sede centrale insomma vengono dispersi con non semplici problemi di tipo organizzativo per cui i professori devono andare da una parte all'altra e certo le sedie non sono idonee per chi frequenta un liceo che dovrebbe godere che dovrebbe usufruire di un'unica struttura. Ne parla il professore Giuseppe Gasparini che denuncia questa situazione stimolando stimolando l'amministrazione provinciale in modo particolare a far sì che si abbrevino i tempi per ricostruire il Carducci e lo fa anche evidenziando correggendo una dichiarazione della provincia che aveva dichiarato ieri sulla stampa che le finestre del Battisti erano state oggetto dei lavori per cui c'era stato un tamponamento ora le classi non avrebbero sofferto più di rumore e di aria viziata in realtà ha detto il professore le finestre del Battisti sono sempre quelle che sono state ormai da tanti anni e quindi nessun intervento è stato fatto. Insomma ci sono dei problemi da risolvere problemi di carattere strutturale e speriamo che il Carducci ritorni a essere abitato ormai al più presto. In 4.000 le elementari e medie sindaco e assessore hanno inaugurato l'anno scolastico ieri al Padalino e soprattutto è stato un grande lavoro quest'anno per ripristinare le sedi dopo il Covid sappiamo come la pandemia nel momento della sua maggiore diffusione ha richiesto provvedimenti strutturali ora bisogna ripristinare la situazione pre-Covid e quindi anche altro lavoro fatto dalle amministrazioni comunque i servizi sono già funzionanti il servizio della mensa il servizio del trasporto scolastico già i ragazzi possono usufruire di queste opportunità Don Achille domani si inaugura la sua statua un sogno cullato per due anni finalmente diventa realtà ebbene a 22 anni dalla sua scomparsa domani alle 17.30 una scultura in bronzo a grandezza quasi naturale che ritrae Don Achille Sanchioni verrà inaugurata davanti alla chiesa di San Leonardo la chiesa di Don Achille l'opera è stata realizzata da Paolo Furlani il grande carrista fanese scultore fanese su ispirazione di Paolo del Bianco e con il concorso tecnico di Patrizio Renzoni la statua verrà svelata al pubblico subito dopo essere stata posata accanto al portone della chiesa di San Leonardo una chiesa sconsacrata da tempo ma che all'epoca del ministero di Don Achille era pienamente funzionante ed era anche parrocchia è quindi un modo per ricordare e onorare questo sacerdote che tanto ha fatto per i semplici per i poveri per le persone più disadattate violenza sessuale in spiaggia chiesti tre anni per il diciannovenne l'aggressione è stata fatta al Lido nel 2020 la vittima era allora minorenne ma lui nega comunque gli abusi l'avrebbe violentata dopo una passeggiata romantica al Lido di Fano poi se ne sarebbe vantato con gli amici ma ieri mattina ha dovuto così essere così giustificare il suo atteggiamento davanti al tribunale di Pesaro c'è stata la requisitoria del PM Silvia Cecchi che ha formulato la richiesta di condanna nei confronti di un ventenne fanese però insomma lui nega gli abusi saremo la cinghia di trasmissione tra Marche e Governo nazionale e l'apertura di un candidato di centrodestra si tratta di Antonio Baldelli per quanto riguarda la Camera dei Deputati per Fratelli d'Italia e poi a Mondolfo invece per quanto riguarda l'inaugurazione dell'anno scolastico c'è stata una bella iniziativa del Sindaco Barbieri il quale ha regalato ad ogni ragazzo una borraccia plastic free così un simpatico omaggio per incentivare per così rendere ancora più importante questo primo giorno di scuola ma anche per insegnare così che cosa significa il rispetto per l'ambiente ai piccoli e in questo momento l'età è quella più propizia per far sì che questi poi diventano i difensori dell'ambiente un risarcimento per una donna caduta in strada che rischiava la perdita di un occhio perché cadendo ha battuto la fronte e gli sono rotti gli occhiali richiesta dei legali operata a Torrette ha rischiato di perdere un occhio si tratta di una donna caduta il 29 marzo scorso in via Toscana nel tragitto a piedi da casa all'istituto scolastico in quanto andava a prendere la nipote a scuola e ora chiede un risarcimento vediamo anche le pagine pesaresi del Corriere Adriatico l'apertura è dedicata al primo giorno di scuola anche qui si parla diffusamente del ritorno a scuola di tanti studenti primo giorno di scuola di normalità anzi perché due anni fa la cosa non erano tanto normali che emozione respirare senza più la mascherina senza osservare il distanziamento e poi tutti i vincoli che le norme anti-covid proponevano appunto per arrestare la diffusione del virus anche poi qui si parla del Morselli quanto entusiasmo dopo nove anni l'istituto ritorna a ricevere gli studenti finalmente dice siamo tornati l'istituto riaperto dopo i lavori al Marconi e al Cecchi il debutto di nuovi dirigenti di nuovi presidi delitto di Natale è l'articolo che riguarda l'udienza preliminare per quanto riguarda l'assassinio di Marcello Bruzzese la procura processati sicari di Bruzzese udienza preliminare per i tre accusati di aver crivillato i colpi di colpi il fratello dell'ex affiliato della Drangheta un avvertimento ma più che un avvertimento una vendetta e qua purtroppo abbiamo un articolo che è difficile anche a leggersi perché queste cose sono molto antipatiche carezze troppo intime alla nipotina un nonno finisce indagato per violenza la bambina ha appena tre anni il GIP affida l'incarico a un perito per valutarne l'attendibilità un nonno è stato accusato di avere palpeggiato la nipotina di appena tre anni uno di questi sospetti che possono fare traballare una famiglia perché veramente poi i sospetti anche poi se si arriva a certe conclusioni rimane sempre qualcosa in sospeso insomma una situazione veramente brutta comunque ieri mattina davanti al GIP di Pesaro si è presentato uno spinoso caso che ha visto l'affidamento dell'incarico a un perito per valutare se una bambina possa essere per quanto ha riferito attendibile o meno si tratta di un'accusa su cui ci si deve muovere con estrema prudenza con estrema cautela poi le cose non sono vere a rimetterci sinceramente c'è la vita di una persona concludiamo la nostra rassegna stampa con un articolo che riguarda una presa di posizione della capogruppo regionale di 5 Stelle Marta Ruggeri la quale critica l'iniziativa dell'azienda Marche Nord che ha affidato l'incarico di assunzione di una cooperativa per la gestione di qualche servizio e questo per il momento è tutto Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento domani alle 7 e come sempre per le notizie del giorno alle 20.30 di questa sera con occhio alla notizia su Fano TV questo è tutto per il momento buona giornata a risentirci Grazie Grazie a tutti.